Pizza Time viene ospitata dalla pizzeria Loasi di Anagni ed è con noi Roberta Celani. Ben trovati. Grazie Roberta che oltre ad essere la proprietaria insieme al marito e ai figlioli ha anche la pizzaiola, la chef pizzaiola che tra poco ci mostrerà la sua abilità nel preparare la pizza che è una passione, sarà sempre una tua passione Roberta. Sì, pizza e pane sì. Ecco, tra l'altro vogliamo spiegare bene dove vi trovate ad Anagni. Allora noi ci troviamo nella zona bassa di Anagni, nella zona periferica, Contrada Pantanello, via Ponte Spallato Fosto del Lupo, sembra chissà dove però molto vicina alla Casilina. Ci troviamo a chilometro 64. Tra l'altro da voi si arriva facilmente? Sì, sì, tramite anche Google Maps è facilissimo. Quindi chi non è pratico e vi vuole raggiungere basta che scriva pizzeria Loasi su Google Maps e arriva da voi. E arriva da noi. Il vostro è un locale tra l'altro rinnovato da poco, moderno. Sì, rinnovato da pochissimo. Abbiamo due sale, questa in cui ci troviamo adesso è un'ampia sala esterna con del giardino anche però spereremo di sfruttarlo abbastanza presto. Ecco, tra l'altro molto luminosa, piacevole, spaziosa, ariosa, si sta bene qui da voi Roberta. La scelta delle materie prime è un elemento importante per la vostra pizzeria perché voi siete molto legati al territorio, è vero? Sì, infatti abbiamo scelto, abbiamo seguito un progetto, abbiamo scelto solamente materie più che altro locali del territorio. Le materie prime di aziende locali. Che ritroviamo sulle vostre pizze. Sì, sì. Ma anche nel beverage, è vero? Sì. Perché? Abbiamo sia birre che vini sempre del territorio. Dunque, il territorio che però appunto troviamo anche nelle pizze, soprattutto nelle pizze. Noi iniziamo adesso, Roberta, a preparare la pizza Oasi. Sì, che è la nostra pizza di casa. Quindi io prendo il mio panetto, lo stendo rigorosamente a mano, stesura a mano. E poi condisco con mozzarella di bufala di amaseno. Poi inserisco le patate al cartoccio che mi sono precedentemente preparata. Come le hai preparate queste patate al cartoccio? Poi continuiamo ad inserire la salsiccia, la salsiccia di patrica e grattugiamo la steccata di morolo. E poi in forno per 4-5 minuti. Dunque una cottura lenta che consente alla pizza di asciugarsi al punto giusto e di essere particolarmente digeribile. Anche perché dobbiamo dire che il tuo impasto matura a temperatura controllata per oltre 24 ore. Quindi siamo su 36-48 a volte a seconda del periodo. E poi ecco, l'eccellenza del territorio che voi avete scelto per il vostro impasto, la farina della polselli. Qual è quella che tu lavori di più? Con la vivace. Lavoro molto la vivace, sì. Che è una farina ricca di sapore, di grani selezionati e scelti, che a volte però alterni con la super. Quindi sono queste le due farine che tu utilizzi. E sono queste le farine che utilizzi anche ovviamente per la seconda pizza che adesso prepari. Cosa hai scelto? Ho scelto una amatriciana. Una amatriciana, ecco, per rimanere legate al territorio laziale, no? Quindi un omaggio ad amatrice con prodotti però locali, quindi comunque... Sì, un guanciale locale. Un guanciale locale. Sempre mozzarella di bufala. Mozzarella di bufala e il pecorino di piscina. Certo. Anche qui, come la stendi? Semplicemente a mano? Come stesso modo, a mano, sempre tutte rigorosamente a mano. Quindi prendo di nuovo il mio panetto, lo stendo e poi metto pomodoro, polpa di pomodoro, mozzarella e guanciale. E poi una grattata di pecorino di piscinisco. Ritorna a piscinisco e la pizza di nuovo in forno. In cottura, sì. Anche qui una cottura piuttosto lenta, giusta per questo tipo di pizza. Sempre i soliti 5 minuti. 5 minuti, anche perché il panetto è quasi di 300 grammi, vero? 280 grammi. Eh, 280 grammi, quindi bisogna dare tempo al panetto di cuocersi, altrimenti avremmo una pizza apparentemente cotta fuori ma cruda dentro, come purtroppo spesso accade per chi invece impiega pochissimo tempo nella cottura. Dunque, la matriciana pure è servita, Roberta. Ascolta, queste sono le due pizze di cui abbiamo fatto vedere la preparazione e che tu hai voluto, come dire, proporre agli amici telespettatori di Tre Universo e ovviamente di Pizza Time come prime pizze da far vedere. Però ce ne sono tante altre, no? Che la tua fantasia è riuscita a partorire con l'ausilio dei tuoi figlioli e di tuo marito che, insomma, in questa impresa familiare costituiscono poi l'anima insieme a te appunto nella gestione dell'impresa. Ricordiamone altre che voi proponete nel vostro menu qui a Danagni. Ok, abbiamo le classiche pizze, partendo dalla margherita, la margherita top, una boscaiola, una diavola, poi abbiamo una sublime, sempre con mozzarella, con fior di latte, mortadella IGP, stracciata di bufala e granella di pistacchio. Abbiamo una torre che abbiamo qui davanti a noi, lo stesso con fior di latte, pomodorini gialli e rossi, granella di noci e ricotta di bufala di amaseno. Inoltre presentiamo la boscaiola, sempre con mozzarella, funghi champignon, salsiccia e olive di gaeta. Anche questa, sempre lenta cottura, i soliti 4-5 minuti. Poi abbiamo la formaggiosa, molto buona, con mozzarella di bufala, sempre di amaseno, gorgonzola dop piccante. Poi in uscita inseriamo cialde di parmigiano, ricotta di bufala, sempre grattata di parmigiano e noci, gherigli di noci, quindi già tostati al forno. E infine abbiamo la purgatorio. Questa è una pizza, diciamo che abbiamo creato tre pizze, purgatorio, inferno e paradiso. Le abbiamo dedicate un po' a Dante, visto che ricorre il settecentesimo anno della Divina Commedia. Abbiamo creato queste tre pizze, visto che lui nomina anche Anagni in questo racconto. E qui in questo momento abbiamo preparato la purgatorio, formata sempre da mozzarella, dischi di steccata di morolo, pancetta, cubetti e olive di gaeta. L'inferno e il paradiso invece gli amici telespettatori lo potranno scoprire venendo qui da voi. Anche per le pizze da portare via, perché voi lavorate con la sport. Anche da sport regolarmente, è vero? Anche da sport. Si conclude dolcemente, volendo, il pasto all'oasi di Anagni perché ci sono dei dolci artigianali. Sì, dei dolci preparati da una pasticceria locale. Possiamo presentare tre dolci, di cui uno è un pan di spagna con una mousse al pistacchio, un altro semi freddo con pan di spagna sempre in mousse al cioccolato e un bacio al cioccolato e lampone. Così si conclude il pasto da voi, ma così si conclude anche questa puntata di Pizza Time. Ricordiamo, pizzeria L'Oasi, Anagni, parte bassa della città, a due passi dalla Casilina. Grazie a Roberta Celani. Grazie a voi. Grazie a voi.